Per noi essere qui a Gia Toscona è una grandissima opportunità, siamo tra i più giovani quindi veniamo confrontati con musicisti non solo più grandi di noi professionisti ma musicisti anche americani appunto di New Orleans non solo per noi è una grandissima opportunità anche poter scambiare poter ascoltare e poter suonare di fronte a un pubblico attento al jazz. Noi low five suoniamo jazz con infiltrazioni dal funk anche dall'hip hop ecco ci piace sperimentare un po mischiare i generi mischiare le varie culture musicali anche con i ritmi lavoriamo tanto sulle clavi anche con il nostro batterista la nostra sfida è proprio quella di crescere musicalmente cercando di trovare qualcosa che vada un po più nella direzione della fusion Suonare qui a Gia Toscona per noi significa per prima cosa rappresentare il Ticino i giovani musicisti ticinesi e in più c'è appunto l'opportunità di confrontarsi con dei ragazzi anche della nostra età sui vent'anni e diciotto anni ma anche con un pubblico di musicisti e di professionisti ed è sicuramente una bella crescita Grazie Ascona e venite a sentirci Grazie 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 Grazie